Il primo rigore inizia lo psicologico con il numero due. Titto del Tribunale con il numero dieci, grandissimo quando assegna questa falla incredibile. Secondo rigore, grandissima questa tarata di Stefano. E la partita se riapre e si riaccende a questi rigori, tiro troppo alto sopra la tarata di Stefano. Andiamo per il terzo rigore, va il numero quattro dell'acusologico. Vai Stefano! Vai Stefano! Ed è dentro! Bravo Stefano! Bravo Stefano! Bravo Stefano! Bravo Stefano! il volazzo di Reneo va per il quarto rigore gli smara allora che passa letteralmente sotto il portiere finorini per il quarto vado a questo rigore adesso va a calciare l'exologico numero 17 il volazzo incredibile vince l'exologico ai rigori